Se il reato è commesso nel momento dell'accordo, è importante che i due soggetti quantomeno sappiano il politico di avere a che fare con un mafioso. Ora, come si può, nella tecnica legislativa, far riferimento a questo paletto, che quantomeno i due soggetti abbiano coscienza della qualità intrinseca l'uno dell'altro? Lo si poteva fare almeno in due modi, mutuo facendo una metafora. Se io voglio fare riferimento a un calciatore, posso dire che quello è un calciatore o posso dire che quello è uno che gioca pallone. Sono due modi equivalenti per fare riferimento alla qualità soggettiva dell'interlocutore, calciatore o gioca pallone. Per segnalare l'importanza della consapevolezza di questa qualificazione soggettiva, noi potevamo dire chiunque accetti la promessa da parte di un associato di cui ha il 416 bis, oppure potevamo dire chiunque accetti la promessa da uno che si comporta come al terzo comma del 416 bis. Abbiamo fatto la seconda scelta, non la prima. Abbiamo sospeso il giudizio con prudenza, con ragionevolezza. Peraltro l'avevamo già fatto quando abbiamo approvato quella legge, con un ordine del giorno, per chiedere di monitorare il funzionamento di quella norma. Ma io sono convinto che sia stata una buona scelta questa seconda, cioè fare riferimento a colui che gioca pallone anziché al calciatore. Perché se avessimo usato la prima formulazione al calciatore, cioè al 416 bis, io credo che avremmo ristretto la portata di questo articolo, ristretto, non allargato. Perché avremmo dovuto dimostrare l'appartenenza del soggetto all'organizzazione mafiosa, mentre invece adesso rilevano le modalità con cui questo soggetto si comporta. È l'aggravante, è l'articolo 7. Io credo quindi che con ciò abbiamo allargato ulteriormente la portata di questo articolo. Da questo punto di vista credo che fin qui abbiamo fatto un buon lavoro. La sentenza più volte evocata non è una sentenza di assoluzione, ma è una sentenza di annullamento con rinvio, credo prudente. Cioè la Cassazione ha detto che la norma è cambiata, rinviamo in appello per capire se la norma cambiando ha mutato le carte in tavola. Io credo che avremo una conferma. Ovviamente mi rimetto rispettosamente all'autonomia della magistratura. Finisco, Presidente, sull'aumento delle pene. È vero, avevo proposto l'emendamento, poi d'intesa col Governo. Questo è un provvedimento che è importante concludere in questo momento storico. Rimane l'impegno, non mio, del Partito Democratico ad aumentare con un prossimo provvedimento in maniera proporzionale le pene preso atto dell'aumento sul 416 bis. È un impegno che ci siamo assunti e che realizzeremo. Grazie, Presidente.